Musica Vincitrice del premio Strega 2022, sezione giovani, Veronica Raimo a Pescara per il festival letterario Conversazioni. La rassegna Conversazioni a Pescara, protagonista dell'appuntamento di questa mattina, il quinto, l'ultima vincitrice del premio Strega Giovani, Veronica Raimo, che abbiamo il piacere di ospitare in studio. Buon pomeriggio e benvenuta. Un festival letterario in cui gli autori si confrontano con i ragazzi. Come è andata? Questi studenti si sono ritrovati un po' nel modello di famiglia raccontato proprio nel libro vincitore del premio Strega. Niente di vero? Andata molto bene, io ero felice e anche emozionata, devo dire, credo che si sia anche intuita poi l'emozione. E non so, credo che più che riconoscersi magari poi nel modello della famiglia, credo si siano riconosciuti in certe ansie, in certe paure, in certi, non so, timori tipici di quell'età di non essere all'altezza, di essere inadeguati, di non corrispondere, non so, appunto a determinati modelli sociali. Quindi abbiamo parlato più di questo, di come affrontare quello che sembra un senso del fallimento e anche proprio affrontare che cosa significa fallire. Sapevamo annoiarci come nessun altro si legge nel libro. I ragazzi invece questa mattina si sono divertiti. Ha usato la stessa ironia che troviamo nelle pagine del romanzo? Ho cercato, insomma, c'erano anche delle cose invece, non voglio dire tragiche, ma insomma con una loro vena di tirstezza o insomma anche di sofferenza, però sì, insomma, cerco sempre un po' di avere un tono ironico, ma non per alleggerire le cose, semplicemente per vederle da un'altra prospettiva, per disinnescare quelle che poi sono delle narrazioni invece molto stereotipate, che si prendono retoricamente molto sul serio. Intanto l'edizione 2023 del premio Strega che le ha vinto l'anno scorso è entrata in vivo, anche con candidature abruzzese, Maura Chiulli, Barbara Giuliano. Che idea si è fatta di questa edizione? Beh, da poco è uscita proprio la dozzina e devo dire che sono felice per certi nomi, mi spiace che altri non sono riusciti ad entrare, però mi sembra una dozzina non scontata, quindi ho visto delle scelte non scontate e di questo sono felice. Grazie, grazie per essere stata con noi e a presto. Grazie.